SIGLA Vorrei essere come te, mamma. Tu puoi essere molto di più. Puoi diventare quello che sei. Perché non andiamo a casa adesso? Sei un po' pallida. C'è un modo per curarlo. L'unica soluzione è il trapianto. Apparenti maggiorenni in buone condizioni di salute. Mamma, un piccolo intervento. Dopo una settimana sarai benissimo. Io non posso. E perché? Non sei nata da me. Il diritto all'anonimato di chi ti ha partorito è molto più forte del tuo diritto di sapere chi sei. Purtroppo non posso dare il giocattificato che mi chiede, mi spiace. La legge dice che devono passare cento anni. Io non ho tempo. Tua madre è stata rintracciata. È una vecchia strana. Non permetta a nessuno di avvicinarla. Lasciamissala. Perché le interessa così tanto? Ti prego, non mi cacciare via. Ho bisogno di te. Anch'io non so cucinare. Sono venuta qui per il mio bene. Mi racconti quello che ti è successo. Insistere nel vivere con te.